Io quella sera lì avevo appena finito il turno. Allora esco fuori e chi ti trova? Il papà e i due fratelli della Vincenzina. Il Peppino e l'Antonio. Che erano venuti al nord anche loro per una roba di mano d'opera. E io sono rimasto lì come un tortello, eh. E chi se li aspettava? Ma soprattutto non mi aspettavo lei. E quella lì chi è? Come chi è? Sono Vincenzina. No, così grande. Capito? Ho detto proprio così grande. Sei mesi dopo, esattamente sei mesi e tre giorni, eravamo marito e moglie. E allora mi dicevano, così piccola. Vincenzina hai guardato la fabbrica Come se non c'è altro che fabbrica Ti hai sentito anche ad orti pulire. Siccome un po' della mia roba era rimasta lì, al vecchio piede a terra, per prima cosa siamo andati a ritirarla. Vice, come va? Ciao Giulio, sei arrivato? Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Piacere, come l'hai giù? È una bella quella. Eh, Presidenti. Salve ragazzi. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Che tristezza il quadrone non c'è Neanche i problemi qui Vincenzina davanti alla fabbrica Vincenzina vol bene alla fabbrica Vincenzina vol bene alla fabbrica Vincenzina vol bene alla fabbrica